E' benissimo il frutto del forsello di Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega le ragioni dei peccatori, adesso è il futuro della nostra popola. Amo. Signore, reggiamo questi magici di Maria, aiutaci a innalzare i nostri cuori, la nostra fede, la nostra devozione in Dei, che si deve trasformare nell'amore che è forte e convinto per i minuti, e lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amo. De campane! De campane! De campane! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.